Mentre Tutti Italia vince il centro-sinistra alle consultazioni amministrative, in provincia di Arezzo si registra un dato in perfetta controtendenza a favore del centrodestra. A conti fatti dopo il turno di ballottaggio a Sansepolcro che ha visto vittorioso Fabrizio Innocenti, il quadro che esce dalle elezioni aretine del 2021 è chiaro. A Montevarchi, Sansepolcro e in Ghiari, i partiti di centrodestra con le liste civiche collegate hanno vinto ed eletto i sindaci che avevano scelto di sostenere. Dall'altra parte ha retto solo il baluardo di Civitella in Valdichiana, dove il centrosinistra ha avuto con sé anche il Movimento 5 Stelle. A Montevarchi, il centrodestra unito e alcune liste civiche hanno portato due settimane fa alla conferma di Silvia Chiasai Martini al sindaco di Montevarchi. Una vittoria di peso che ha visto sconfitto Luca Canonici, candidato del centrosinistra unito insieme ai pentastellati. Nessun candidato grillino siederà in consiglio comunale. A Dall'anghiari, il sindaco civico di centrodestra Alessandro Polcri è stato confermato due settimane fa, né che Caglini né Bianchi hanno potuto qualcosa per cambiare gli assetti. L'unico comune di questa tornata che resta al centrosinistra è quello di Civitella, dove è stato eletto Andrea Tavarnesi in continuità con Ginetta Menchetti, che ha guidato l'amministrazione per due mandati. Intanto si è svolta a Sansepolcro il passaggio di consegne tra il sindaco uscente Mauro Cornioli e il neo eletto Fabrizio Innocenti. La cerimonia si è svolta dopo la validazione del voto nel primo pomeriggio di ieri nella sala del Consiglio Comunale. Nell'occasione Cornioli ha consegnato al primo cittadino la fascia tricolore, le chiavi del comune e la medaglia della città di Sansepolcro. L'augurio che faccio a Innocenti è di lavorare in modo proficuo per i prossimi cinque anni, avendo come obiettivo il bene della nostra comunità, ha dichiarato l'ex sindaco Cornioli, che sia quindi un mandato per la crescita e lo sviluppo di Sansepolcro. Assumo questo ingarico con grande spirito di servizio in favore della città, annunciato invece il neo eletto Innocenti. Sarò il sindaco di tutti, pronta all'ascolto e al confronto. Ringrazio Mauro Cornioli per il lavoro che ha svolto in questi anni con impegno ed edizione.